Quindi questo è il... avevamo detto che non facevamo più il cancan, una volta facevamo, adesso non lo facciamo più, facciamo questa cosa. Buon divertimento! 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 Senti, senti che dico La voglio sentire in metà Ok, no, bravissimo Ma, vediamo, i bimbi ci sono in giro? Quanti ce ne sono di bimbi? Eccoli là Vediamo L'arpa celtica, ci si può giocare facendo anche queste cose Ma sono sempre i rocker Le sono tutte Vanno dalla sirenetta ai metallica Aspetta, aspetta Vediamo allora se conoscono questa Secondo me no Vediamo Aia Si va in sfida, eh Ma è quella che penso io Quella che hai composto tu? Ah, ok Questa l'ha composta lui, eh Forse l'avete Forse l'avete Ma hai fatto il copyright di questa, no? Ah, ok Ah, no Una serie No, allora anche per gli amanti del pop Dai Gli amanti del pop Così abbiamo coperto tutto l'arco costituzionale No, moderno, moderno Poi tanto lo so che lo fai quell'altro Siete che c'è il coro Succede solo a Guidonia No, basta, basta, basta Un applauso a Adriano Sangineto L'arpa celtica L'arpa creativa Lì c'è anche sui cd Che trovate al banchetto dei gendis Quello lì di fianco all'audio E anche, no Solo lì Al banchetto dei gendis Quindi arpa creativa L'arpa celtica Come nelle danze È giusto che le nuove generazioni Sappiano Abbiano le radici forti Le radici profonde Ma poi ci si può anche divertire Facendo anche cose diverse Da quello che può essere il canone istituzionale Proprio perché Lo strumento Le scarpe I piedi Quello che facciamo È soprattutto frutto Del nostro divertimento Quindi Adriano Ti lascio presentare Il tuo ultimo pezzo Ho un medley Preso pronto da Arpa creativa Ci sono diversi brani Li ho presi Li condenso tutti insieme Così almeno vi faccio un riassunto Grazie Adriano Sangineto Salto pronto da I chi disp college Pagano Lo strumento There yapılcati Ag הק Poyou Lo strumento Ro strumento Grazie a tutti. 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 E allora, adesso ritorniamo un po' nell'alue un po' più tradizionale, con una musica tratta da uno spettacolo che è Vito Flames, anche qua ha reso celebre la danza irlandese un po' in tutto il mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.